Presentato il programma del corso di bioetica che si terrà ogni martedì alle 20.45 presso l'aula Domminzoni del Seminario Orcivescovile di Ravenna. Il corso, che prenderà il via il 15 gennaio, è promosso dalla Scuola di Formazione Teologica ed è stato organizzato in collaborazione con Movimento per la Vita, Scienza e Vita, Comitato Verità e Vita, Centro Aiuto alla Vita, per affrontare questioni etiche legate alla difesa del valore della vita, dal concepimento alla morte naturale. Inizia il 15 gennaio questo corso dedicato alla bioetica. Perché avete sentito l'esigenza di organizzare questo corso in quest'anno dedicato alla fede? Proprio perché è l'anno della fede e proprio perché abbiamo avvertito la necessità di dimostrare quella che è la ragionevolezza della posizione della Chiesa su queste tematiche riguardanti la vita e riteniamo che ci sia la necessità di un'informazione sempre più approfondita, di guardare veramente la realtà quale essa è e non di affidarsi semplicemente a quelli che sono gli slogan che la mentalità dominante trasmette attraverso la maggior parte dei mass media. Soprattutto ci teniamo che non solo la comunità cristiana ma chiunque abbia a cuore l'umano, perché qui non si tratta di difendere solo dei principi religiosi, qui si parte proprio dal diritto naturale, dal guardare la realtà così com'è. Ed è proprio per questo che grazie anche alla collaborazione del Movimento per la Vita, di Scienze Vita, del Comitato Verità e Vita, del Centro Aiuto alla Vita di Ravenna, siamo riusciti ad avere relatori di altissima qualità, di altissimo livello e quindi siamo certi che questi cinque incontri susciteranno moltissimo interesse e mi auguro anche in una ottima partecipazione. E quali gli argomenti che verranno trattati in occasione di questi cinque incontri? Ovviamente abbiamo dovuto fare una scelta e gli argomenti di bioetica sono tantissimi, abbiamo cercato i più essenziali, il che vuol dire la continuità fra la vita prenatale e la vita perinatale, il confine sfumato fra contraggezione e aborto, le tecniche di fecondazione extracorporee, la morale, quindi il Magistero di Benedetto XVI in materia proprio per dimostrare la ragionevolezza delle posizioni della Chiesa, la terminalità e quindi il dibattito che c'è sull'eutanasia e un ultimo una testimonianza da parte del dottore Oriente di che cosa significa veramente, essendo lui un medico ex abortista, fare aborti e poi svegliarsi da questo incubo e mettere la propria vita a difesa della vita. Gli ospiti, i relatori che sono stati invitati, chi sono? Gli ospiti, i relatori sono ovviamente persone di altissimo livello e potremmo dire in una battuta che c'è il gota dei pro-life italiani che viene a Ravenna, sono il professor Giuseppe Noia, responsabile del reparto e insegnante di medicina prenatale all'Università Sacro Cuore e quindi operativo al Gemelli, la dottoressa Pia De Carolis, neonatologa del Gemelli, il dottor Renzo Puccetti, docente di bioetica della facoltà del Regino Apostolorum, il padre Giorgio Maria Carbone, domenicano di Bologna, il dottor Tommaso Scandroglio, docente di filosofia del diritto, la dottoressa Teresa Ceni, presidente di centri di aiuto alla vita che ci porterà appunto anche lei la dimensione esperienziale, la tavola rotonda con il dottor Giacomo Rocchi, magistrato della Corte di Cassazione, Mario Palmaro, docente di filosofia del diritto e il dottor Luigi Montanari, responsabile dell'ospice di Lugo e l'onorevole di Virgilio come relatore del progetto del decreto legislativo sulle dichiarazioni anticipate di trattamento e chiuderemo appunto con il dottor Antonio Oriente, ginecologo, che porterà la sua testimonianza. Sarà attivato anche un profilo su Facebook, un'occasione per parlare degli argomenti trattati durante gli incontri ma anche per in qualche modo aprirsi a quelle che possono essere anche le posizioni differenti? Assolutamente sì, noi non abbiamo paura di metterci a confronto con chi la pensa diversamente perché la ragionevolezza delle nostre posizioni è talmente un'evidenza tale per la quale non c'è nessun problema, è un'occasione di utilizzare i mass media anche per confrontarsi in maniera ovviamente seria, saranno eliminate tutte le in qualche modo le ingiurie che in qualche modo possono arrivare necessariamente perché il dibattito deve essere su identità, su identità formate e chiaramente occasione appunto di formazione anche per chi questa formazione non potrà in qualche modo venire ad ascoltarla agli incontri. Sarà Pietracci per Avenna Web TV